Bentornati amici di TecnoAndroid, in questo nuovo video io sono Manuel, oggi voglio parlarvi di loro Si chiamano Google Pixel Buds Pro 2, questi nomi sempre così impronunciabili, ma vabbè E sono i nuovi auricolari del colosso di Mountain View che sono stati annunciati durante l'ultimo evento Made by Google Sono passati un po' in sordina, lo devo ammettere, perché rispetto ai Pixel, i telefoni Pixel Loro non sono stati poi così eclatanti, così rivoluzionari, non è che hanno destato l'attenzione Quindi un po' devo ammettere che mi ero proprio dimenticato che fossero stati annunciati Devo ammettere che con mia grande sorpresa sono eccellenti, sono anche migliorati rispetto allo scorso anno Perché l'azienda ha voluto fare tante piccole migliorie senza però andare a stravolgere l'esperienza d'uso Ora sigla e poi li vediamo nel dettaglio Parlare di un paio di auricolari True Wireless Stereo è davvero difficile a mio avviso Perché non si riesce a far capire la vera qualità di un prodotto del genere attraverso una videocamera E quindi un microfono che già filtra, ci sono un sacco di limiti hardware E quindi bisogna un attimo anche fidarsi del giudizio, del parere di chi le sta provando Senza scendere troppo nel tecnicismo e nei pipponi Io voglio parlarvi intanto della confezione che come vedete tutta in carta riciclata Bravissima Google perché mi piace questa grande attenzione alla sostenibilità Purtroppo però piatto ricco mi ci ficco assolutamente no, non c'è nulla Se non i gommini di tre dimensioni XS, SL arrivano di default con quelli di taglia M E poi abbiamo la manualistica molto semplice e come vedete non c'è il cavo di alimentazione Esatto, come anche gli auricolari Airpods 4 Dobbiamo dire, anzi abituarci a non vedere più nelle scatole nemmeno il cavo Ma è un problema? Assolutamente no In un altro video voglio spiegarvi perché a mio avviso questo non è un vero problema Costano 249€ quindi il prezzo è importante È un prodotto di fascia alta che va a competere con Scusate, devo staccarli Sì perché io li attacco sempre ai pantaloni Con gli Airpods Pro di Apple Non competono in senso stretto nel senso che Loro sono particolarmente indicati per gli iPhone e i prodotti Apple Loro sono particolarmente indicati per i prodotti di casa Google Certo, voi potreste anche utilizzarli con un Samsung, un Oppo, un OnePlus, un Nothing eccetera eccetera Ma io consiglio sempre di stare nel vostro orticello Che significa? Investite nell'ecosistema Avete un device pixel? Comprate un paio di auricolari pixel, un orologio pixel eccetera eccetera Avete un prodotto di casa Samsung? Investite in casa Samsung Ma non è una questione di estetica, di etica, niente di tutto ciò Semplicemente alcune funzionalità sono disponibili solamente con i prodotti della casa madre Tutto qui, comunque ho un po' di raffreddore Scusatemi, dovevo girare per forza oggi Va bene, vado avanti a Tachiperina e passo la paura Tornando a parlare della confezione Come vedete ricorda quella di un ovetto Ormai ci siamo abituati a questo form factor da parte di Google Simpatico, ricorda un ovetto Kinder I più giovani diranno LOL E all'interno troviamo le gemme che sono state leggermente modificate rispetto allo scorso anno Perché sono più piccole, più leggere 4,7 grammi cada una contro i 6, qualcosa dello scorso anno O meglio, degli anni precedenti I gommini in ear si possono sostituire Abbiamo visto in confezione che c'è la XS, SM, L Per tutte le orecchie, o meglio per tutti i padiglioni auricolari E poi la colorazione verde-meccia C'è anche verde-grigio, anche rosa-peonia E un grigio-creta, se non sbaglio Non cambia mai il case che è sempre bianco Qua c'è il LED Ma cambia solamente la parte superiore delle gemme Degli auricolari veri e propri Poi troviamo sempre sul case Il supportino, questo è un piccolo speaker ma vabbè Il cavo per la ricarica USB tipo C E poi il pulsante per l'abbinamento rapido Ora non so se con tutte queste luci ve lo riesco a far vedere Ma è qua dietro Semplice, leggera la confezione Devo dire, si tiene bene, un po' troppo scivolosa Io consiglio sempre di metterci, se potete trovatelo su Amazon Un case come questo che io ho per gli Airpods Perché io lo attacco sempre alla cinghia dei pantaloni Sono sempre pronto per usare gli auricolari con semplicità E poi se potete comprate quelli, i case, le custodie Che hanno una sorta di sicura Perché così evitate, vedete A meno che non facciate troppa pressione Ecco questo a me mi si è rotto un po' Ma è più difficile da aprire rispetto a uno senza sicura L'azienda afferma anche di aver testato oltre 45 milioni di dati Per trovare anche la vestibilità Scansionando varie orecchie, varie tipologie Delle orecchie delle persone Per trovare la vestibilità più coerente e più comoda Per l'utilizzatore, per il consumatore Effettivamente si nota la cura nel dettaglio E si vede che hanno un form factor molto studiato Non è classico, capiamoci Si infilano, io ho preso adesso il modello di sinistra Left E lo infilo qui Posso assicurarvi che la vestibilità è molto buona Anzi, mi piace un sacco Come stanno nelle orecchie Purtroppo non è il mio form factor preferito Qualcuno potrebbe dire Ma qua è soggettivo Vero, è soggettivo Avete detto bene L'azienda comunque ha investito tanto Quindi non gli si può dire nulla Perché la qualità è eccellente I gommini sono molto ergonomici Sembrano quasi sparire all'interno delle proprie orecchie Ma qui poi bisogna ammettere Che ognuno sceglie il modello Che è più congeniale al proprio orecchio Io per esempio, avendo i padiglioni auricolari stretti Non posso usare tutti i linear in commercio Tipo loro, faccio un po' fatica Con gli Airpods Pro e senza gommino Mi trovo bene Con il motore da Buds Plus Mi trovo bene E poi mi trovo male purtroppo Con questi che hanno comunque un form factor simile Sono i Sony WF-C510 A proposito, a breve farò un confrontone di questi tre prodotti E ci metterò anche gli Airpods così Per completezza Perché mi piace confrontare gli auricolari Anche se non è mai molto semplice parlare di auricolari Lo sapete E' difficile Però ogni volta che arriva un nuovo modello in circolazione A me piace provarli Perché io faccio tantissime telefonate Per svago nella mia vita privata E soprattutto nel lavoro Quindi io che sono abituato a stare al telefono Per me sono indispensabili gli auricolari Avere un modello che si comporta bene Che non scalda troppo e non fa male Dove io riesco a comprendere bene i miei interlocutori E i miei interlocutori mi ascoltano bene Beh, per me fa tutta la differenza del mondo Proseguiamo a proposito di questo Nella disamina hardware però di questi auricolari Perché la batteria intanto è molto buona L'azienda assicura 12 ore senza ANC attivo Senza cancellazione attiva e rumore Con la cancellazione arriviamo a 8 ore e mezzo La cosa che mi piace è che con 5 minuti sotto la corrente Io recupero un'ora e mezzo di ascolto Mica male per 5 minuti sotto la corrente Anzi c'è la ricarica wireless lenta Non particolarmente veloce Però con quella rapida io devo ammettere che Non più di un'oretta è qualcosa E sono al 100% Poi non so voi ma io non ho mai scaricato Del tutto un paio di auricolari Case compreso C'ho sempre un cavo come un power bank Addirittura con Airpods Pro e iPhone Pro Io fornisco la ricarica agli auricolari tramite il telefono Molto semplice Vi devo parlare però anche di ANC Ebbene sì L'ANC di nuova generazione di casa Google È veramente incredibile Io ho denominato questa recensione con uno slogan Parola d'ordine Silenzio Silenzio perché queste gemme hanno un chip Tensor A1 dedicato Su ciascun auricolare Avete capito bene Quindi la soppressione è veramente incredibile E c'è da dire che io rispetto anche gli Airpods Pro che possego Mi è sembrato di essere in un mondo vattato Dove però io non avevo un senso di claustrofobia Che alcuni auricolari sono in grado di fornirmi Anzi mi dispiace non aver provato la funzione di chiamata nitida Che è un'esclusiva dei device pixel E io non ho più i miei pixel 9 con me Ma tant'è Piuttosto ho trovato un po' bizzarro il funzionamento del rilevamento della conversazione Che cos'è? Io indosso il mio auricolare con cancellazione attiva del rumore E sono in silenzio ad ascoltare la musica Inizio a parlare Magari sono in palestra Voglio parlare con l'istruttore Guarda senti ma posso andare lì è libero Mi dai una mano mi segui un attimo eccetera Automaticamente mi ha switchato in modalità trasparenza Quindi comunque non ero senza ANC Ero con la modalità trasparenza attiva E devo ammettere che dipende Un po' ho trovato complicato Ma non perché non fosse buono Se sono in un ambiente tipo Sto passeggiando qua sotto Incontro una persona Oh ciao ciao come stai Automaticamente mi switcha la modalità Finisco di parlare Finisce di parlare Capta molto bene anche le parole d'altore Quindi comunque non è solo se smetto di parlare io Ma anche se smetto di parlare i miei interlocutori E fa ripartire da ANC E io torno ad ascoltare la mia musica Il podcast è quello che mi pare Però in palestra con la musica a palla Il casino I rumori Qua eccetera Ha fatto molta più fatica A attivare questa funzionalità Quindi per me è buona Fica Fighetta Non ci farei troppo affidamento Semplicemente Io non sono un grande amante Di queste funzioni automatiche Perché sì Sono buone Ottime Qua sotto ha funzionato tranquillamente Perché passeggiavo Ho incontrato una persona Ciao 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 Perfetto Ma in palestra con tutti quegli stimoli Apriti cielo Peccato Perfettibile Magari con un aggiornamento software C'è poi un blaster IR Per il rilevamento Degli auricolari nelle orecchie Quindi io Inserisco Faccio partire la musica Tolgo Si interrompe la musica Insomma Tutte le classiche cose a cui siamo abituati Il case IP54 Gli auricolari IPX4 Certificati Ovviamente Parliamo infine di applicazione Beh Non ho un device pixel Non ho un device android con me Su iPhone Non c'è Fine Vabbè Sto facendo muovere troppo la telecamera Con questi movimenti Scusate Pixel Buds Pro 2 Arrivano sul mercato A 249 euro Un prezzo Interessante Li pone In netto contrasto Con gli Airpods Pro di Apple Ma non sono in contrasto Perché sono rivali Veramente Perché loro vanno bene con i pixel E con gli android Ma io consiglio con i pixel E loro vanno bene con i miei prodotti Apple Quindi comunque A livello filosofico Vanno in contrapposizione Sono due rivali Ma poi Nel dato pratico Non sono due dispositivi Che vi porteranno A farvi le domande Meglio questo o questo Perché comunque Appartengono A due categorie di prodotti Completamente differenti Guardate bene Comunque L'estetica Carino Simpatica Non gli si può dire nulla A mio avviso Sono auricolari Eccellenti Tutto e per tutto Bello il packaging Ottima L'integrazione Con i device Google Perché Se vi ricordate Un anno fa Io ho provato i pixel Buds Pro Di prima generazione O meglio Di seconda Perché era un modello Uscito nel 2023 Un ibrido Non un Prima generazione Non una seconda generazione Un modello intermedio Con tante chicche software E devo ammettere Che l'integrazione Con i pixel 8 Dell'epoca Era micidiale Quindi Mi aspetto La stessa cosa Con i pixel 9 9 pro 9 pro XL Il mio consiglio È sempre lo stesso Investite Nell'ecosistema Io sono Manuel Grazie per aver visto Questo video Ci vediamo sempre qui Su TecnoAndroid Con una nuova recensione Anzi a brevissimo Lo giro adesso Con un confronto Pixel Buds Pro 2 Versus Motorola Moto Buds Plus Versus Sony WF-C510 Che nomi Numeri strani Complicati Versus Airpods Pro 2 A presto Ciao